Invitiamo tutti i cittadini a mobilitarsi, a partecipare alla raccolta firme che attiveremo in tutti i presidi di guardia medica della provincia di Pesaro Urbino, al momento 8, tra chiusi totalmente e parzialmente, in tutte le tre vallate perché non è più accettabile la situazione che stiamo vivendo. Ci stiamo ritrovando con guardie mediche chiuse, USCA disattivate, cioè i medici che visitano i pazienti positivi a domicilio e pronto soccorso intasati perché non hanno più filtro, con il risultato che i cittadini, che siano persone anziane o famiglie con bambini piccoli, in piena notte non sanno più a chi rivolgersi. Aspetta la politica a trovare soluzioni, non è accettabile che la giunta a Cuaroli si giustifichi dicendo che c'è una carenza di medici, è vero, lo sappiamo benissimo, è un problema nazionale ma altre regioni lo hanno risolto perché solo nelle marche non riusciamo a trovare la soluzione. Noi abbiamo anche proposto, già da 15 mesi a questa parte, lo sto facendo in consiglio regionale anche con degli atti ufficiali, quali potrebbero essere le soluzioni, ovvero innanzitutto dare dignità ai medici perché le guardie mediche due anni fa c'erano e sono scappate a causa dei contratti umilianti che hanno dovuto accettare. Quindi molti poi si sono dimessi e sono andati a lavorare in altre sedi, i carichi di lavoro sono aumentati e l'accordo integrativo regionale non dà dignità al loro sacrificio. E poi soprattutto fare in modo, abbattendo l'incompatibilità, che i medici in pensione o quelli con più di 650 mutuati possano ancora prestare servizio in questa fase critica di transizione in attesa che arrivino altri medici attualmente impegnati con la specializzazione. Per cui cerchiamo soluzioni, questo che deve fare la politica e ci aspettiamo che la Giunta Quaroli finalmente si faccia carico della problematica e intervenga per risolverla grazie anche alla raccolta firme che attiveremo in questi giorni. Oggi si parla invece di personale che non c'è più, cioè di personale che decide di lasciare la sanità marchigiana per andare a lavorare o nella sanità privata o per andare a lavorare in Emilia Romagna. Quindi c'è praticamente una fuga dei medici. Questa fuga dei medici fa sì che i servizi che attualmente prima c'erano, come ad esempio quello delle guardie mediche, il servizio dei medici dentro le ambulanze, i servizi dei medici nel pronto soccorso, sono tutte attività che ovviamente non è che avevano un personale in esuburo, ma comunque il personale c'era rispetto a quello che erano le esigenze. Oggi lo stesso personale decide di licenziarsi dal pubblico e di andare a lavorare da altre parti. E questa è la novità. Probabilmente anche questa riforma influisce perché probabilmente i medici stanno capendo che le marche stanno andando in una direzione sbagliata e quindi decidono di andare a lavorare altrove. Questo è molto preoccupante perché se è vero che c'è una carenza di personale medico e in generale sanitario, ma se quel poco personale che abbiamo decide di andare a lavorare altrove, il problema aumenta.